Quello che credo è che oggi abbiamo rispolverato sostanzialmente una pista, che è la pista dell'Est, che era una pista che era molto fondata e molto importante all'interno di questa vicenda e che parte il 3 dicembre del 2004, che vedrà coinvolti i servizi di sicurezza, che vedrà coinvolti per nove mesi il governo per cercare di capire perché un bel giorno uno si alza, che non ha bisogno di pubblicità, che non ha bisogno di nulla e dica io adesso faccio un numero telefonico pulito e una mail pulita con la Svizzera e mi metto in contatto con i rapitori. Poi, logicamente, noi abbiamo dovuto comunicare queste cose alla Procura della Repubblica il 3 dicembre del 2004 di notte e lì si è attivata tutta una procedura internazionale e poi purtroppo l'operazione è fallita e quindi si è cercato di recuperare cercando di capire. Oggi siamo a 17 anni, magari qualche collaboratore, qualche persona, che aveva conoscenze in ordine a questa vicenda di quella famosa notte del 3 dicembre del 2004 in cui siamo stati contattati per questo genere di cose, cioè la pista dell'est europeo, magari qualche collaboratore o qualcuno che era vicino a questa personalità oggi vuole parlare, ci vuole spiegare che cosa stava succedendo, dove avevano intercettato, se avevano intercettato Denise Pipitone, perché questa pista non è incompatibile con la pista cosiddetta familiare. Però ecco, rapidamente voglio dire, le fiction sono molto belle, da seguire, se scritte bene, compagnia. Io mi fermerei al primo passaggio, cioè alle quattro persone di cui parla l'avvocato, alla pista familiare. Il fatto che ci siano stati proscioglimenti o assoluzioni, non significa che quella pista abbia perso di consistenza o che non rimanga l'unica spiegazione plausibile, mentre il passaggio successivo, di cui mi pare abbia fatto cenno, ma secondo me come i posti di scuola, prima la dottoressa Bruzzone, cioè anche di una pista dell'est che peraltro viene fuori dopo alcuni mesi, presenta dei vuoti per me insormontabili, cioè non si capisce cosa sarebbe accaduto se non immaginare un trasferimento all'est che però mi pare complicatissimo e la cronaca insegna che le piste complicate sono sempre sbagliate, le soluzioni sono sempre le più semplici e le più banali, salvo immaginare naturalmente un evento eccezionale. Ho fatto l'esempio di Meddi, perché è un caso drammatico, altrettanto angosciante, che trova forse una soluzione nel pedofilo, però ha una sua logica e una sua eccezionalità. Allora c'è stato nella storia un pentito? Qui le strade erano due fondamentalmente, qui le strade diciamo erano due principalmente, ossia posta diciamo, guardate a mio modo di vedere la sottrazione della bimba sostanzialmente davanti al portone di casa è una firma psicologica potentissima su questa vicenda, che va letta proprio in quella direzione, l'obiettivo era proprio quello di colpire Piera in primis, ma non solo Piera, e quindi il fatto stesso di sottrarla davanti all'uscio di casa era chiaramente parte integrante del disegno criminale, anzi probabilmente la parte sotto profilo psicologico più gratificante, perché ha messo in campo questa terribile azione. Dopodiché ci sono due scenari che si aprono, uno il più tragico e il più terribile, che però non ha mai trovato riscontro, ossia che dopo al sequestro si sia proceduto all'eliminazione della bambina, sotto profilo fisico. Il secondo scenario è che vi fosse un disegno preciso per portarla il più rapidamente possibile, il più lontano possibile, con l'ausilio di soggetti che ben potevano essere in qualche modo coerenti con un certo ambiente frequentato, diciamo, da alcune persone coinvolte a vario titolo nella vicenda. Cerchiamo di essere il più generici possibili, insomma, sviare eventuali conseguenze. Sì, molto strano, però andiamo a rivedere, molto complicato, molto strano. Andiamo a rivedere. Guarda che non è così complicato, se leggi certi passaggi di questa inchiesta... Però dico, è strano che in 17 anni su questo fronte poi non si è emerso nulla. Allora, due cose, scusate. Se ci sono passaggi in cui si va avanti... Andiamo a rivedere il contesto dove viene portata via Denise, e mettetevi nei panni di un'organizzazione criminale che vuole portare via una bambina. La portereste via da un contesto come questo, dove ci sono decine di finestre con le porte aperte, come ricordava prima il direttore Perrino. Possiamo vedere, ecco, lo chiedo alla regia esterna, se possiamo vedere la strada al di là del portone. Il portone, ecco, guardate proprio la strada, guardate questa strada. Non è proprio un luogo dove dici, sono sicuro che non c'è nessuno che mi sta guardando in questo momento. Portereste via una bambina da una situazione del genere se non aveste messo il conto di passare inosservati? Cioè, vent'anni fa a Mazzara del Vallo uno straniero non passava inosservato, e tuttora credo che non passi inosservato. C'è stato a un certo punto un pentito che si è svegliato un giorno e sentite cosa ha detto. Ancora dall'Italia sul 2. Di qualche giorno fa le dichiarazioni di un pentito, lui si chiama Giuseppe Dassaro e dice io, io ho buttato il corpo della piccola Denise, morta dopo che le avevamo somministrato dei tranquillanti per farla stare buona, poche ore dal suo sequestro. Stiamo vedendo Paola Cannizzo che è con Piera Maggio, adesso possiamo aprire il collegamento in diretta da Marsala. Piera, come hai accolto queste dichiarazioni di Giuseppe Dassaro? Che sensazione hai? La tua sensazione è che Denise sia ancora viva? Sì, assolutamente sì, ma questa è stata una mia prima risposta a caldo. Quando ho sentito queste dichiarazioni fatte, io prima di avere un incontro in procura, la mia reazione è stata subito assolutamente non credibile a tutto ciò che questa persona stava per dire. quindi io assolutamente non ci credo perché questa persona per me non è abbastanza credibile. Fra l'altro c'è un'articolazione di un modo di dire una verità a modo suo prendendo tanti pezzi di cronaca. Ecco, io non assolutamente, ci sono cose che li trovo inverosimili. Deve esserci un posto speciale per persone che in momenti così drammatici cercano la ribalta raccontando delle verità non credibili. E qui mi fermo perché avete capito qual è il posto speciale a cui mi riferisco. Avvocato, questa è stata, ma sin dalle parole di Piera Maggio, è stata subito scartata come ipotesi ritenuta non credibile. Eppure in tanti hanno pensato che ci potesse essere un fondo di verità, non nel suo racconto, ma in una certa modalità e in un certo modus agente dei rapitori. Questa storia di Giuseppe D'Assaro io la conosco particolarmente bene perché poi è coinvolta in questa storia anche l'omicidio di Sabin Maccarrone. Sabin Maccarrone è una ragazza che scompare da sciacca, una ragazza svizzera, e poi lui sarà condannato, Giuseppe D'Assaro, a 30 anni. Giuseppe D'Assaro dice che c'è Sabin Maccarrone morta nel pozzo e Denise Pipitone dentro un frigorifero, dentro la stessa casa. Quindi nel 2007 le due persone più ricercate in Italia ce le aveva Giuseppe D'Assaro, secondo quello che dice lui. In realtà Giuseppe D'Assaro poi viene smentito, ma Giuseppe D'Assaro viene condannato per Sabin Maccarrone a 30 anni. Però volete sapere la verità? Lui non sa neppure come è morta Sabin Maccarrone. Ed è stato condannato lui a 30 anni, si è accollato a quell'omicidio, ma lui non sa descrivere come l'ha uccisa. Quindi è una persona molto poco attendibile, anche se comunque in qualche maniera è collegato con l'ambiente familiare Giuseppe D'Assaro. Scusi, avvocato, mi permesso di intervenire, ma un giudice non si rende conto di questo elementare dettaglio che lei sta dicendo? Cioè che non sapeva neanche come l'aveva uccisa? E lo condanna a 30 anni? Cioè come me lo spiega? Io voglio sapere da lei che me lo spieghi. Non oso io immaginare come, ma perché? Se va su Rai Replay, vede tutto il processo, il processo di Sabin Maccarrone, dove è imputato Gianni Melluso. Lo hanno ripreso un giorno in pretura. E questo processo è collegato con questa storia di Denis Pipitone. Io assistivo in quel momento l'imputato in quel processo in corte d'assise e le accuse venivano mosse da Giuseppe D'Assaro. Oltretutto il movente di quell'omicidio era lo scambio tra l'aiuto che doveva dare Melluso a D'Assaro per disfarsi di Denis Pipitone e dall'altro lato D'Assaro chiedeva aiuto a Melluso o viceversa per disfarsi di Sabin Maccarrone. Discorsi che non avevano senso. Melluso è stato assolto con formula piena da questo reato dell'omicidio di Sabin Maccarrone e nell'ambito di quel processo viene fuori che Giuseppe D'Assaro non sa neppure come l'ha ammazzata a Sabin Maccarrone. Questo per dare il quadro di quanto sia inattendibile Giuseppe D'Assaro. Marziale? No, è che mi viene da pensare, perché si sta parlando di una parentesi di giustizia o ingiustizia, no? Mi viene da pensare una cosa. Quel giorno che partecipai a quel convegno a Mazzara del Vallo c'era l'avvocato Frazzitta. Volevo fargli una domanda. Ma i quattro a cui l'avvocato si riferisce sono gli stessi quattro a cui si riferì il procuratore Sciuto quel giorno che disse che i responsabili sono uno in meno delle dita di una mano. Siccome il numero coincide a distanza di 17 anni. Dico, è da 17 anni che siamo lì. Antonio, non mi fare lo scherzetto di fare un armi. Adesso non fare questi giochetti, Antonio. No, no, no. È la verità. Non è un giochetto. Ricordo il numero. Mi chiedo se sono... Vengono fuori da un'attenta analisi dibattimentale. Quando Sciuto parla di quei quattro, non so chi siano, in ogni caso eravamo in una fase di indagini. Eh no, perché coincide il numero, quindi. Con delle discrasie importanti nel loro racconto, con delle dichiarazioni incompatibili, vengono fuori nell'ambito del dibattimento. Tuttavia non si raggiunge neppure per loro la soglia. Però non sanno dare spiegazioni a cose che raccontano. Direttore Perrino, che voleva intervenire. Direttore. Volevo fare una domanda all'avvocato. Lui non vuole fare il nome dei quattro, però anche a nome di chi non conosce il dettaglio di questa vicenda, una domanda mi consente di porgerla. Cioè, quale sarebbe il movente di questo ratto? Perché ci spieghi, non si capisce perché chi l'ha fatto ha rapito... Ve lo dico perché non lo dico io, lo dice la Suprema Corte. La Suprema Corte dice una cosa precisa. Di tutti gli elementi a carico dell'imputata, solamente uno è forte, ed è il movente. Il movente in questa storia c'è, ma il movente da solo, dice la Suprema Corte, quando gli altri elementi indiziari non sono gravi, precisi e concordanti, ancorché esistano ma sono deboli, il movente da solo non consente di poter giungere ad un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. è il movente e il livore che avevano nei confronti di Piera Maggio. Quindi è una storia familiare, in sostanza, una faida familiare. Non è una storia familiare, perché la famiglia della signora Maggio è una famiglia di persone per bene di Mazzara del Vallo. È un'altra famiglia che in realtà aveva livore nei confronti di Piera Maggio, a cui addossavano una colpa che non aveva Piera Maggio, perché in quella famiglia il matrimonio era terminato molti anni prima, per cui non c'entra, però sorge comunque. Lo sappiamo ancora oggi, vediamo in molte coppie in cui vi sono rapporti matrimoniali conflittuali, come se anche dopo che termina il rapporto matrimoniale, il rapporto di coniugio, ci sia ancora livore. Resta credine e livore. Monica Lufreddi. La Cassazione che lo dice non sono io. Quindi sul momento la Cassazione dice non vi è ombra di dubbio. Monica. Ecco, volevo chiedere all'Avvocato Parazzitta, che saluto naturalmente. Dal punto di vista umano volevo analizzare questa vicenda. Cioè volevo sapere se in questi 17 anni sono stati fatti dei tentativi da parte di Piera Maggio di entrare in contatto con queste persone, perché 17 anni possono essere sufficienti anche per smaltire quella rabbia, quel livore. La vendetta è stata consumata perché questi 17 anni di inferno sono, ma almeno per sapere se si può continuare a sperare oppure no. C'è proprio un'intercessione umana. Ecco, dal punto dove la magistratura non è arrivata, dove non sono arrivate le prove, ci sono stati dei contatti, dei tentativi proprio di supplica da parte di questa donna. Come si può riaprire l'indagine in qualche modo, no Monica? Sì. No, io dicevo proprio un contatto anche umano, privato, di richiesta privata. Allora intanto il processo è terminato nel 2017. Quindi siamo nel 2021, mi rendete conto che la ferita è ancora molto aperta, esatto. Ma in ogni caso ci rendiamo conto di avere un muro dall'altra parte, giustamente, ognuno si trincera dietro ciò che vuole. Evidentemente non posso condividerlo, ma non posso neppure condannarlo per questo. È chiaro che non ci sono gli estremi per poter avviare un colloquio, ma anche perché il colloquio che fine avrebbe? Non ma dico anche in forma autonoma, anche in forma anonima, queste persone, chi sta? Anche rivedendo questo dolore così forte dopo tanti anni che colpisce tutti gli esseri umani, è possibile che non colpisca nessuno di questi quattro che lei ha citato, anche solo per un piccolo segnale, chiaramente che non possa metterli poi in difficoltà dal punto di vista giudiziario, però proprio umanamente, in modo anonimo, in modo qualcosa, far arrivare un qualcosa a questa famiglia. Purtroppo no. Non è possibile. Purtroppo devo dire che le abbiamo pensate tutte. Questa storia è una storia che il mio studio segue giornalmente da 17 anni, perché come dicevo anche ieri, abbiamo all'interno dello studio, c'è proprio una carpeta attiva in questo momento di molte attività che dobbiamo andare a fare di verifica e soprattutto di comunicazione alla Procura della Repubblica, perché qualsiasi idea, qualsiasi elemento, qualsiasi segnalazione o avvistamento, noi riprendiamo il bandolo della matassa. Poi devo pure dire una cosa, l'ultima memoria storica di questa vicenda siamo io e Piera Maggio, perché sono tutti cambiati i pubblici ministeri, i procuratori, sono cambiati i giudici, quindi andare a riprendere un fascicolo che è 100 faldoni di indagine per circa 1500 pagine al faldone, che poi ha prodotto tre gradi di processo estremamente complessi, parliamo di centinaia di migliaia di pagine, ma che complicato. Ebbene, è doloroso, scusate, fatemi parlare come essere umano e cittadino, ma la giustizia dov'è? Mi dia una risposta. Dov'è la giustizia, la grande giustizia? È sepolta da questi faldoni. È la più grande sconfitta, credo, la giustizia perché non ha assicurato alla giustizia i rapitori. Ancora oggi, quando scompare un bambino, non vi sono protocolli e non vi sono task force adatte ad appiccinarsi. I genitori dei bambini scomparsi divengono i primi sospettati e non solo hanno un crollo psicologico per una tragedia immane che può colpire un genitore quando perde di vista solamente per un istante il figlio. Pensa quando te lo rapiscono. E più devono sopportare una ignoranza istituzionale che li vede anziché aiutarli e diventare complici per certi versi anche sospettandoli, ma tenendo un approccio diverso nei confronti dei genitori e della famiglia si vedono pure accusati di qualcosa che non hanno fatto. Quanto meno guardati con sospetto. Fatemi salutare.